Proseguite con generosa fedeltà alla vostra missione ad gente, sattuando sempre un attento discernimento circa la situazione dei popoli in mezzo ai quali svolgete la vostra azione evangelizzatrice, una situazione spesso segnata da grande povertà e sofferenza acuta. È l'esortazione che Papa Francesco ha rivolto ai missionari e alle missionarie della Consolata, incontrati in Vaticano in occasione dei rispettivi capitoli generali, per portare avanti questa non facile missione, che per alcuni ha significato anche il sacrificio della propria vita, occorre vivere la comunione con Dio nella percezione sempre più consapevole della misericordia di cui siamo oggetto da parte del Signore. La vostra consacrazione missionaria, aggiunto il Pontefice, possa essere sempre più sorgente di incontro vivificante con Gesù e fonte di consolazione, pace e salvezza per tutti gli uomini. Nello sforzo di riqualificazione dello stile di servizio missionario occorrerà privilegiare alcuni elementi significativi, quali la sensibilità all'inculturazione del Vangelo, lo spazio dato alla corresponsabilità degli operatori pastorali, la scelta di forme semplici e povere di presenza tra la gente. Attenzione speciale meritano il dialogo con l'Islam, l'impegno per la promozione della dignità della donna e dei valori della famiglia, la sensibilità per i temi della giustizia e della pace.